al via l'obbligo green pass ecco le regole da venerdì controlli nelle aziende si mobilita anche la vigilanza privata venerdì a pesaro manifestazione di protesta contro il green pass giornate fai d'autunno alla scoperta dei tesori nascosti delle marche benvenuti al nostro telegiornale oggi è mercoledì 13 ottobre come sempre uno spazio di informazione per voi cittadini della regione marche in modo particolare cittadini della provincia di pesaro urbino allora siamo a due giorni dal via al provvedimento del green pass obbligatorio che entrerà in vigore appunto come già ben sapete venerdì 15 ottobre in tutti i luoghi di lavoro sia pubblici che privati in provincia di pesaro urbino però sono quasi 15 mila i lavoratori attualmente non vaccinati vediamo quindi quali regole dovranno attenersi per recarsi nei luoghi di lavoro ultimi rintocchi del conto alla rovescia verso il 15 ottobre che porterà all'estensione delle green pass obbligatorio a tutti i luoghi di lavoro sia nel settore pubblico che in quello privato un non problema per un abbondante 80 per cento degli abitanti della provincia di peso urbino che hanno già completato la profilassia anti covid una severa criticità invece per quasi 15 mila lavoratori pesaresi attualmente non vaccinati una fetta di popolazione che per recarsi nei luoghi di impiego con certificazione verde dovrà verosimilmente sottoporsi a tre tamponi alla settimana il governo nella serata di ieri ha emanato due dpcm con relative linee guida al provvedimento regole dalle quali si evince che chi sarà sprovvisto di green pass dovrà essere allontanato dal posto di lavoro ciascun giorno di mancato servizio fino all'esibizione della certificazione verde è considerato assenza ingiustificata includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative in nessun caso però l'assenza della certificazione verde comporterà il licenziamento i dpcm prevedono che sarà onere del datore di lavoro o di suo incaricati la dinamica del controllo da effettuare tramite app e predispone anche maggiore flessibilità negli orari di accesso ai luoghi di impiego per ottemperare alle procedure di controllo i controlli dovranno essere quotidiani e a rotazione in modo da coinvolgere l'intero personale la violazione al mancato controllo comporterà per i datori di lavoro una sanzione fra i 400 e i 1000 euro al lavoratore che acceda al luogo di impiego senza green pass si applica invece una sanzione compresa fra i 600 e i 1500 euro avete appena sentito in questo nostro primo servizio come i controlli del green pass saranno responsabilità dei datori di lavoro nella provincia di pesaro urbino sono decine quelle che intendono appaltare questo monitoraggio avvalendosi di aziende esterne a meno di 48 ore dal via al green pass obbligatorio nei luoghi di impiego parallelamente ai lavoratori che corrono ad adeguarsi con tamponi o vaccini utili a munirsi della certificazione verde ci sono anche le aziende che si stanno organizzando per monitorare il rispetto delle regole d'accesso ai luoghi di lavoro e non manca in tal senso chi decide di ricorrere a società di vigilanza privata stiamo ricevendo parecchie richieste di adesione abbiamo già impegnati una ventina di persone che svolgeranno il controllo sui green pass nelle aziende medio grandi della provincia richieste di servizi partite e presumibilmente destinate ad aumentare con l'entrata a regime delle procedure attualmente ci hanno richiesto al mediamente da un mese di controlli tutti i giorni e i controlli si svolgeranno ovviamente inizio del turno di lavoro se sono fabbriche oppure all'ingresso dell'ufficio quando entreranno gli impiegati ogni azienda poi a secondo delle dislocazioni ci sarà un nostro addetto che farà il controllo con l'app c19 per le aziende avvalersi di un soggetto esterno rappresenta anche una opportunità per affrancarsi da scomode dinamiche interne al momento dei controlli le richieste sono aumentate normalmente proprio per questo fatto cioè di evitare che ci siano queste dinamiche all'interno dell'azienda e quindi rivolgersi a un soggetto terzo permette di fare un controllo più sereno quindi chi ha il green pass entra chi non ce l'ha sta a casa oppure si fa il tampone continuiamo a parlare di green pass perché l'entrata in vigore appunto di questo controllo sarà accompagnata anche nella stessa giornata da una manifestazione di dissenso al decreto legge 127 manifestazione che si terrà proprio nel centro storico di pesaro ad annunciarla è il comitato noi siamo il popolo italiano che attraverso un comunicato stampa precisa che non sarà un presidio etichettabile come novax o no pass bensì una manifestazione di cittadini che non si sentono rappresentati dalla politica e dai sindacati unitari la manifestazione si inserisce nello sciopero a oltranza proclamato dal sindacato fisi e prevede un concentramento dei manifestanti a partire dalle ore 9 alla palla di pomodoro con corteo che si muoverà verso piazza del popolo dove si terrà un presidio per il resto della giornata ci sono però alcune categorie che senza green pass rischiano di avere ripercussioni sui servizi proprio alla collettività questo è il caso delle carenze di personale che si stanno prospettando nel trasporto pubblico scolastico vediamo il servizio in provincia di pesaro urbino ci sono 45 conducenti di autobus che venerdì non esibiranno il green pass non sono vaccinati e non hanno intenzione di sottoporsi a tamponi sistematici per avere la certificazione una situazione che i vertici di adribus hanno palesato all'assessore regionale trasporti guido castelli e presentato ieri al prefetto tommaso ricciardi mettendo sul tavolo una impossibilità a svolgere mansioni che inevitabilmente si ripercuoteranno in disservizi alla collettività adribus e ami hanno fatto sapere che davanti a questa situazione sarà necessario rimodulare le corse dei bus anche alla luce della carenza di personale conducente alternativo e dell'impossibilità attuale a procedere con nuove assunzioni impossibile garantire l'attuale completezza del servizio ma l'intenzione dell'azienda di trasporti di concerto con l'ufficio scolastico e la stessa prefettura è di salvaguardare le corse del mattino più frequentate in quanto dedicate a studenti e lavoratori pendolari una situazione che resta in divenire e che auspica di vedere sensibilmente abbassato già da venerdì il numero attuale di 45 dipendenti e di altre tre defezioni in altrettante categorie del personale. San Lorenzo in campo dal 20 ottobre potrebbe non avere più un medico di base una carenza che ci avete segnalato anche voi telespettatori che ci seguite dalla cittadina laurentina e che lo stesso sindaco Davide Dell'Onti ha denunciato pubblicamente come situazione gravissima per un comune con più di 3000 abitanti. A tal proposito il sindaco invita tutti i cittadini ad una raccolta firme per una petizione popolare da consegnare a Regione Marche e Asur per ripristinare il servizio di medicina di prossimità. Sono cominciati oggi i lavori di asfaltatura che dureranno dieci giorni fra la rotatoria del lobby di Pesaro e il cimitero degli inglesi di Montecchio. Dieci giorni in cui dunque si procederà a senso unico alternato per lavori di manutenzione straordinaria su tratti di asfalto ammalorati. I lavori sono stati finanziati dalla Regione Marche per un importo di 350 mila euro. Si chiama sindaco per i quartieri il nuovo tour di ascolto di Matteo Ricci nei quartieri pesaresi per fare il punto con i cittadini sui progetti in e confrontarsi su opportunità e criticità del territorio. Si comincia venerdì 15 ottobre dal quartiere San Bartolo dove Ricci farà tappa a Colombarone, Case Badioli, Castel di Mezzo, Fiorenzuola di Focara e Siligate insieme a Mila della Dora che tra l'altro è assessore con delega ai quartieri. L'assessore regionale Guido Castelli ha debuttato ieri a Bruxelles come membro del Comitato europeo delle regioni in rappresentanza delle Marche. Il politico ascolano nel suo intervento d'esordio ha fatto presente a Bruxelles come nel corso del 2020 a causa della pandemia siano venuti a mancare all'Italia ben 23 miliardi di euro, una mancanza secondo Castelli acuita nelle Marche dove già si pagava un ritardo nella ricostruzione post sismica. Ieri ci siamo occupati del via, i corsi di laurea in scienze infermieristiche ripartiti appunto a Pesaro in una nuova sede. Oggi invece parliamo di un altro genere di formazione, quello della scuola di teologia i cui corsi sono ripartiti coinvolgendo studenti di tutta la provincia. E allora vediamo le interviste realizzate dal nostro Giorgio Ricci. La scuola di formazione teologica è stata aperta tre anni fa dei Vescovi della nostra metropolia per creare un percorso di formazione comune ai laici. È aperta a tutti e non ha costi di iscrizione. È strutturata secondo la cosiddetta didattica mista in presenza e in diretta streaming per cui ci sono lezioni che si svolgono a Fano o a Pesaro in presenza e in aree molto più lontane in aree in aule attrezzate dove ci sarà presente anche un tutor che aiuterà i partecipanti nella comprensione e nell'approfondimento delle lezioni. È composto da quattro annualità. Le prime due riguardano i cosiddetti corsi introduttivi alla formazione e le altre due i corsi di completamento del percorso. I giorni in cui si tengono queste lezioni sono il martedì e il mercoledì dalle ore 19 alle ore 21. C'è stato un filosofo di nome Pascal che nella notte in cui è diventato cristiano perché la sua esperienza l'ha portato proprio in un passaggio evidente fatto in una notte ha scritto questa frase il dio di Abramo il dio di Isacco il dio di Giacobbe il dio di Gesù Cristo non il dio degli scienziati e dei filosofi. Questo ci fa capire che l'esperienza cristiana nasce non da un'idea che è universale di tutti ma nasce da una storia quella di Gesù quella di un popolo quella di Israele e allora la teologia che cosa fa interpreta la parola di dio che è un evento qualcosa che è successo duemila anni fa nel linguaggio degli uomini di oggi e cerca nella parola di dio la l'indicazione la luce di dio per i problemi e le domande dell'uomo di oggi ognuno di noi si fa delle domande cerca di rispondere a quelle che sono le tante tante questioni che la vita ci pone la teologia cerca di aiutare l'uomo di oggi a capire come dio risponde alle nostre domande come tradurre la parola di dio per gli uomini e le donne di oggi ed ora un consiglio per questo prossimo fine settimana perché il 16 17 ottobre tornano le giornate fai d'autunno un appuntamento che ogni anno porta alle delegazioni del fondo ambientale italiano ad aprire tesori culturali abitualmente chiusi alle visite al pubblico vediamo quindi quali saranno i luoghi della cultura della provincia di pesaro urbino visitabili proprio questo fine settimana siamo qui per illustrare il programma delle giornate fai d'autunno che si svolgeranno in tutta italia nel prossimo fine settimana 16 e 17 ottobre nella nostra provincia diverse aperture molto diversificate tra loro che porteranno a scoprire dei luoghi amati dalla nostra dai nostri concittadini e soprattutto a scoprire dei racconti con cui ritrovare memorie perdute di questi luoghi che visiteremo a pesaro apriremo il cenobbio del san bartolo un luogo incantevole molto amato dalla nostra città nascosto nella vegetazione del parco san bartolo poi apriremo avremo l'occasione in quella giornata di far visitare i nostri iscritti villa imperiale con un biglietto agevolato apertura riservata solo agli iscritti per sabato 16 ottobre avremo poi la possibilità di visitare il borgo di candelara dove il fulcro diciamo del nostro racconto sarà la soms di candelara cioè la società di mutuo soccorso operaia di mutuo soccorso costituitaci a candelara a fine ottocento tuttora viva apriremo poi a fano villa monacelli una villa settecentesca nell'entroterra fanese sarà un'apertura riservata solamente agli iscritti fai poi possiamo parlare di pergola questa cittadina che è uno considerato uno dei borghi più belli d'italia dove apriremo la chiesa dei magi una chiesa normalmente chiusa che al di là dell'aspetto austero quasi di torre che si può notare all'esterno all'interno ha un ricco apparato decorativo barocco un barocco romano ricco di stucchi dorati e di statue avremo poi la possibilità di visitare sempre a pergola palazzo mattei baldini uno degli edifici più prestigiosi della città che ci verrà aperto dal suo proprietario il quale ha realizzato all'interno di questo edificio un'associazione culturale cine club che però naturalmente è chiusa ormai da due anni da quando si è verificata questa situazione pandemica andiamo poi all'amoli di nuovo luogo del cuore molto conosciuto dove questa volta ripercorreremo gli antichi sentieri dei monaci alla scoperta dei luoghi dove venivano prelevati i materiali per la costruzione dell'abbazia poi andremo a santo stefano di gaifa a canavaccio sette chilometri da urbino naturalmente sarà necessario avere il green pass per poter accedere alle nostre aperture è consigliata la prenotazione nella quale chiediamo un piccolo contributo di partecipazione chiediamo a tutti ecco di iscriversi di unirsi a noi questo è il mese in cui il FAI fa una campagna promozionale per cui la quota di iscrizione è anche ridotta unendosi a noi ci aiuterete a sostenere le attività del FAI e a salvaguardare il nostro meraviglioso patrimonio d'arte e natura. E in chiusura parliamo di sport parliamo di rugby perché dopo un campionato cancellato causa pandemia e uno interrotto anzitempo domenica tornerà in campo la Pesaro rugby con la prima giornata del campionato di serie A vediamo il servizio. Dopo 18 mesi senza partite di un campionato di serie A bloccato a lungo dalla pandemia la Pesaro rugby ribattezzata Fiorini dal nuovo main sponsor è pronta a tornare in mischia. La società giallorossa ha già varato la sua campagna abbonamenti mentre la squadra allenata da Augusto Allori continua a prepararsi al Toti Patrignani in vista del debutto di domenica 17 ottobre che sarà in trasferta a Civitavecchia. Per il presidente dei Kiwi Simone Mattioli sarà il via di una stagione molto particolare dopo tanta inattività. È questo campionato che sta per cominciare un campionato molto particolare dopo questa lunghissima inattività. Sì molto particolare per due ragioni. La prima è che la federazione proprio perché non sa qual è lo stato dell'arte del rugby italiano ha deciso di non di bloccare le retrocessioni quindi non ci saranno le retrocessioni. La seconda perché appunto incontreremo il club di sempre in questo girone ma non sappiamo se in questi due anni di blocco dei campionati sono cambiati, si sono potenziati, si sono indeboliti eccetera quindi sarà curioso riscoprire ciascuno di loro ogni domenica. La percezione dell'organico a disposizione di questa Serie A qual è da parte del presidente? È un organico molto locale perché abbiamo l'obiettivo di far giocare molto di più rispetto al passato ragazzi cresciuti nel nostro vivaio ed è una cosa che faremo anche in futuro in cui abbiamo fatto degli inserimenti che consideriamo di qualità non molti ma interessanti e questa cosa dovrebbe farci affrontare la stagione serenamente. E noi seguiremo da vicino le partite del Pesaro Rugby facendovi vedere in modo particolare la ripresa insomma delle prossime partite quindi seguite Rossini TV. Rossini TV è sempre più TV dello sport infatti questa sera alle 20.30 trasmettiamo in diretta questa importante partita Opificio 4.0 CMB Matera contro Italservice Pesaro alle ore 20.30 in diretta su Rossini TV. E poi vi ricordiamo appunto a proposito di sport che domani è una giornata molto importante perché parte una nuova stagione di Insieme a Canestro il programma ufficiale della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro lo trovate in diretta tutti giovedì alle 21.20 potete partecipare scrivendoci al nostro numero consueto di Whatsapp 370-366-7210 oppure visto che saremo anche in diretta sulla nostra pagina Facebook commentare sotto la diretta. I vostri commenti insomma saranno letti in modo tale da farvi partecipare attivamente a questo grande show e dibattito dedicato al basket pesarese. E vi ricordiamo anche la nostra rassegna stampa se non riuscite a vederla in diretta alle 7.20 tutti i giorni da lunedì al sabato in diretta in questo orario anche sulla nostra pagina Facebook e sul nostro sito russinitv.it segnatevi appuntatevi le repliche le repliche che sono le 8.15 alle 12.30 alle 14 alle 18.00. Ho detto davvero tutto come sarà il meteo per i prossimi giorni lo scoprirete tra pochissimo intanto vi auguro buona serata.